Si raccusa sull'area del nuovo ospedale, l'ufficio tecnico comunale boccia il sindaco, la giunta comunale e l'ASP 8. L'ufficio tecnico comunale di Siracusa sull'area del nuovo ospedale, boccia il sindaco di Siracusa, la giunta comunale e l'ASP 8. Così come avevamo detto noi, affermano Vinciullo, Castagnina, Lota, Basile, l'ufficio tecnico non può dare alcun parere se la richiesta, che per inciso non esiste, non viene accompagnata dai pareri di genere civile e sovrintendenza. Quindi ancora una bocciatura per l'amministrazione comunale di Siracusa e questa volta sicuramente la peggiore perché a bocciare il sindaco sono i suoi dipendenti. Avevamo più volte inascoltati, avvisato tutti sul percorso errato che era stato intrapreso. Oggi, dopo aver sbattuto la faccia contro il muro, speriamo che imparino ad essere meno saccenti, meno presuntosi, un pochino più umili. Dopo l'interrogazione della consigliera Cetti Vinci, con cui si chiedeva di rendere pubblico il parere del settore e territorio del comune sulle aree indicate dal professor Giuseppe Pelliteri per la possibile individuazione dell'area di birra al nuovo ospedale di Siracusa, parere richiesto dalla giunta con la deriva numero 124, che fissava il termine del 17 luglio, il parere stesso è finalmente arrivato, ma si tratta ancora di un atto interlocutorio visto che dopo una lunga e articolata disamina il documento conclude affermando che considerata la non definizione degli atti fin qui acquisiti, si ritiene che in presenza di una serie di incertezze come sopra argomentate non si possa esprimere sul piano tecnico un giudizio finale ed esagostivo sulle aree indicate dal professor Pelliteri. Pertanto, a parere di questo ufficio, si reputa necessario acquisire uno studio integrativo che tenga conto dei pareri già espressi dalla subvenienza dell'Ufficio del Genio Civile oltre alle osservazioni sul piano urbanistico. Di strada da fare ce n'è quindi ancora parecchie. L'obiettivo di avere un ospedale funzionale ed efficiente al servizio di un'intera provincia richiede grande e costante lavoro da svolgere sempre con la massima trasparenza. Solo così potremo sperare in una struttura che potrà essere utilizzata almeno dai nostri figli.